Un altro strumento. Adesso Dami e Giovanni vi presenteranno il loro strumento musicale. La tromba. La tromba è uno strumento musicale affiato appartenente alla famiglia degli ottoni. Il suono viene prodotto immettendo aria nello strumento per mezzo della vibrazione delle labbra a contatto con il bocchino. In modo che essi producono un filo e un tiro. Essendo infatti un labbiofono, non è la vibrazione di un'ancia ad emettere il suono, bensì quella delle due labbra del musicista. I pistoni permettono di modificare il percorso dell'aria nello strumento alternandone la nudezza e quindi variando la tonalità emmessa. Tra gli ottoni è quello che suona nella parte più alta del regista o il tonino. Bravissimi! Grazie! Applausi! Grazie! Grazie! Applausi! Applausi! Grazie!